Fabrizio Miccoli è indagato per estorsione. Il capitano del Palermo ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito dell'indagine che riguarda i suoi rapporti con il figlio di Antonio Lauricella, detto Scintillone, boss della calza, arrestato nel settembre del 2011. Il giocatore pugliese avrebbe chiesto a Mauro Lauricella di adoperarsi per quello che potrebbe definirsi un recupero crediti non proprio ortodosso. Ma se per quel che riguarda la vicenda giudiziaria, i fatti sono ancora tutti da dimostrare, le parole delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche che riguardano i dialoghi tra Miccoli e Lauricella fanno rabbrividire. I due canticchiano un ritornello il cui testo è tutto un programma, quel fango di Falcone con esplicito riferimento e dileggio del giudice ucciso dalla mafia. E ancora ci vediamo davanti all'albero di quel fango di Falcone, modo singolare di darsi appuntamento. Fino ad ora Miccoli era stato solo lambito da fatti di rilevanza giudiziaria in occasione di una vicenda relativa ad alcune schede telefoniche contraffatte che il calciatore aveva ceduto sempre a Lauricella o per via di alcune frequentazioni con personaggi incensurati ma con parentele eccellenti nel panorama mafioso. Adesso è arrivato l'avviso di garanzia, si tratta solo di un'indagine ma molti tifosi rosa-nero su Facebook hanno già manifestato la propria delusione per quelle frasi al telefono.